ahahahah c'è il caldo c'è il caldo mamma mia mamma mia ahahah adesso ci devi fare sicuro figlio ragazzi immagino lei 90 anni lui 30 vai 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 ahahah 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 ho capito perchè ti vola se le ragazze se vanno così una vergogna signori avete visto un idiota bravo bravo ho capito perchè ti vola man ha non